Dopo molte ore di attesa è stata chiusa la E45 sul tratto Val Savignone-Canili in entrambe le direzioni di marcia. Quindi di fatto l'Italia è nettamente divisa in due. Non ci sono viabilità alternative per cui chi viene da sud, quindi da Sansepolcro, per andare verso nord, uscendo da Val Savignone è costretto a rimboccare la E45 in direzione sud e tornare indietro. Stessa cosa vale per Canili. La vecchia strada alternativa, quella che si utilizzava prima della costruzione delle E45, è letteralmente risucchiata dalla vegetazione, quindi impercorribile. Così siamo in attesa di avere ulteriori informazioni su quello che accadrà su questo tratto delle E45, una chiusura storica perché non sappiamo per quanto tempo questa chiusura rimarrà in atto. La motivazione che porta alla chiusura è la possibilità di collasso del viadotto Puleto, quindi ci sarebbe rischio di crollo imminente del viadotto e per questo la misura cautelativa, l'unica possibile, è la chiusura della strada.